Un direttore d'orchestra che affronta un'opera, qualsiasi essa sia, deve affrontarla nella maniera giusta, quindi amarla. Tosca è una delle opere che ho amato di più, è ancora là. Dirigere all'aperto è ben diverso, ma lo sferisterio è un'acustica talmente straordinaria che molte volte alcuni diati dal chiuso sono nettamente peggiori. Sono Donato Renzetti, direttore d'orchestra della Tosca, direttore musicale quest'anno a Macerata. Il direttore musicale è quello che si occupa e aiuta soprattutto il direttore artistico nella scelta, io personalmente, del direttore d'orchestra, ma anche dei cast e delle opere da programmare. Tosca rappresenta, secondo me, forse l'opera più importante del Novecento, un'opera che racchiude tutte le debolezze umane. Abbiamo l'amore, chiaramente fra Tosca e il pittore Cavaradossi, la gelosia, c'è la violenza, c'è la tortura. Secondo me il personaggio più importante, che vale ancora oggi, è Scarpe, perché i cattivi ci sono sempre. Abbiamo una guerra in corso, libertà è tutto, libertà di espressione, libertà di vita, di uscire, di amare. E certamente Tosca è un esempio appunto suggiocato da Scarpe. L'amore non è solamente fra l'uomo e le donne, l'amore è verso la natura, l'amore è verso l'arte, verso la musica, quindi l'amore è l'essenzialità dell'umano. Grazie. 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 Grazie.